Sconfiggere il fascismo è stato per il nostro paese la condizione per rinassere. Senza la sconfitta del fascismo noi non saremmo né una democrazia né ne saremmo una repubblica libera. Credo che questo sia importante che nessuno se lo dimentichi e oggi il problema non è tornare indietro, perché abbiamo visto i disastri. Il fascismo ci ha portato alla guerra, le leggi razziali, ha mandato la deriva al nostro paese, quindi oggi il problema è estendere la nostra democrazia e soprattutto costruire un futuro degno di questo nome. Venerdì mattina, al termine della sua Lectio Magistralis davanti a una platea di studenti, il segretario generale della CGL Maurizio Landini aveva invitato i cittadini a partecipare in tanti alla manifestazione Mai più fascismi, organizzata a Roma da CGL e Cisle Will. E ieri la piazza ha risposto bene, dall'Abruzzo oltre 2.000 persone sono a corse nella capitale e sul palco il segretario Landini ha anche ricordato la domanda che una studentessa pescarese gli ha rivolto all'auditorium Petruzzi, ossia perché ai ragazzi hanno sempre detto di essere competitivi, mentre lui nella Lectio Magistralis ha ribadito l'importanza della solidarietà e soprattutto delle paridinità. Già, perché secondo Landini è questo il presupposto per avere maggiore equilibrio nel lavoro, tutela i diritti dunque al centro di una protesta che dice no al fascismo, ma che intende dare maggiore speranza ai più giovani affinché possano vivere in un paese senza guerra e odio. A piazza San Giovanni, ieri oltre ai rappresentanti sindacali, c'erano esponenti politici del centro-sinistra abruzzese e semplici cittadini giunti a Roma da varie parti della regione. E intanto a Pescara, nella sala consigliare di Palazzo di Città, non si è più tenuta l'iniziativa con la nipote del duce Edna Grimussolini. La presentazione del libro è stata annullata.